Posso leggere? Possiamo parlare di una cosa bella, di un toro grande, di un toro che vince, lo facciamo, perché il toro Ford Disable, ossia il toro FD, vince. Domenica scorsa c'è stato, ne abbiamo parlato Fabrizio lo ricorderai, il primo torneo Citturin che si è giocato appunto al campo vicino a Piazza Adriano, ha battuto 5-4 ai rigori il Monaco, i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2, è stata una partita molto combattuta, i gol sono stati di Marcello Masucci, il capitano Alessandro Genta e poi i rigori realizzati ancora da Genta, da Alessandro Pinna e dal nostro amico, un amico personale, Claudio Girardi che salutiamo. Fra il pubblico c'erano dei personaggi molto importanti e ci tengo io personalmente a salutare la presidente del CIP, del Comitato Italiano Paralimpico di Torino, Silvia Bruno e Tiziana Nasi che è neopresidente della Federazione Italiana Sporti Invernali Paralimpici che erano appunto lì a premiare, quindi davvero questo è stato un bel pomeriggio e quindi la dimostrazione è che anche con la maglia granata si riesce ogni tanto a vincere, è una cosa che forse è un po' perso di vista o no? Sì, bella cosa, ci voleva Dunque continua a vincere, il Torino FD vince, vince sempre, ed è una bella cosa La prossima pagina, la prossima pagina